Si riparte in Sevel dal secondo turno dopo lo stop dovuto all'incidente mortale del 3 gennaio scorso. Resta sotto sequestro la Ute 1 nel reparto della Stratura, dove durante i lavori di manutenzione straordinaria della pausa natalizia ha perso la vita il giovane Cristian Terilli del Frusinate. La catena produttiva riparte con le altre 10 Ute a disposizione per produrre poco meno di 1.200 furgoni al giorno. E intanto i sindacati chiedono maggiore sicurezza sul lavoro. È Alfredo Fegatelli della FIOM CGL. È mancata la prevenzione, secondo voi? C'è bisogno di maggiore informazione? Per quanto riguarda la sicurezza la maggiore informazione è sempre necessaria. Per quanto riguarda la prevenzione, questo non lo possiamo sapere, dovrà saperlo la magistratura. Una cosa è sicura che secondo noi sarebbe opportuno valorizzare sempre di più il valore umano e sicuramente l'essere umano rispetto a quello che sono poi i ritmi di produzione. Esprimiamo la massima solidarietà ai familiari della vittima, un giovane ragazzo che è venuto qui per lavorare e che non tornerà a casa. Questo per noi è un problema abbastanza serio. Poi le iniziative decideremo insieme alle altre organizzazioni se è possibile o altrimenti come FIOM cercheremo di mettere in piedi azioni per sollecitare e sensibilizzare rispetto a quello che accade nei posti di lavoro rispetto alla sicurezza.